un b andrea andrea ancora uscito è tardi sei in ritardo sei in ritardo mi strano questo braccio ermetico è voluto il braccio ermetico adesso te lo succhi buongiorno il tuo divano nuovo lo va in meno di quanto è costato a noi e solo fino a questa domenica dj dj bisogna agliarlo come è andato al viaggio andrea abbastanza bene dai e tu umberto come stai abbastanza bene potete vedere il nuovo modello samsung è giusto bello vintage a a non mi ritardo ragazzi quale sono? 20 50 andrea la mangi tutta? si da mi ha detto che non si sente quindi la mangio tutta a 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 pazzesco Maria ti cerca taxi Mommi come è andata la serata? Beh Sei divertito? Si C'era tanta gente Quale t'hai sentito? E tu come stai? Questo me Un po' più di entusiasmo Finito l'entusiasmo L'abbiamo venduto tutto Adesso dormire Può sentire che pezzone sto ascoltando? Dai dai Metti in go Qua occhio perché ci Eh mamma occhio perché ci bloccano il video Eh perché qua abbiamo il copyright Creava un groove Perché la traccia che ho suonato io Non era così scura Anzi era quella Ma vedi che sei in gomma Non puoi entrare quando sono ancora in gomma Ma è bellissimo Immagini che c'è il L'asciugamano lì blu Che ti copre come il brusco Tu lo sai che c***o di martello C'ho nel mio cervello in questo momento L'asciugamano l'asciugamano lì blu C'è il che è un po' più di condicione Grazie a tutti.